si vede il caso il caso si vede e pro quanto vogliamo voglio saltare il cielo quando sta tirando su le gambe quando è in cielo cioè quando ha tirato su le gambe si vede il gioco si vede il gioco si vede il gioco il gioco è molto difficile si vede il gioco 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 quello dietro è il gioco è il gioco Sì, però non c'è Come un aereo Vediamo come giro l'aereo Vediamo come giro l'america Non vabbiamo Vediamo come giro l'aereo Vediamo come giro l'aereo L'Astri limite Vediamo come giro l'aereo Buon appetito! e mamma mia quanto vuoi fare ho tirato questo è un bel edente nuovo un alcor ma so che è così che abbiamo ma dov'è l'aeroporto? a quanto dov'è andermi dentro? fino alle nuvole insomma vedete quegli atti che non so molto divertiti hai detto che sono divertiti? alcune volte si, se vado sulle torri gimelle si il lago è questo che stava intendendo che non voleva fare sui culi allora mi sono ritorno, abbiamo riprendere la aria Sera e un listo sicuro Ma stai Ma stai Ma stai facendo un like A te Sì Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info www.mesmerism.info